e ciao belli si è aperta la cosa bene a tutti ragazzi in questo nuovo video oggi giocheremo la neighbor 3d faremo la seconda parte allora ci siamo lasciati con oh mio dio è vicino stiamo facendo un video bello a tutti ragazzi oggi siamo qui tornati con un nuovo video sono gentile ho dei pauli di clash royale che appena si carica non ha guarda questi non li apro oggi non li apro mai guarda non mi vedo non mi vedo calma vittoria se tu mi vedi ti spacco il culo allora ragazza avete visto ho messo la webcam più grande non si riconoscono non mi ha visto non mi ha visto sapete che mia mamma guarda sti video scommetti che adesso sei nascosto e riviene scommetti che sei nascosto allora guarda sei nascosto no forse faremo anche quick draw aspetta eh te lo giuro allora faremo quick draw no non è giusto ascolta lo sto facendo io adesso voglio fare io quick draw no lo faccio io faremo un'altra volta se mi va perché forse non va a me va no continua a giocare dopo e comunque vi sarete che sia benedetta la mia alta come scrive quick 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 draw è benissimo c'è scritto in inglese traduzione in inglese facciamo perché io sono bravo cosa vuol dire quick draw e uno che ti dice cosa disegnare e allora è strabello posso disegnare anch'io sì ho deciso oggi andremo a cambiare le voci come? posso cambiarla anch'io ok iniziamo con vittoria vittoria di qualcosa adesso traduttore ciao sono vittoria adesso cambieremo la voce a vittoria la sentirete tutti non carica mi dispiace ragazzi ecco disegniamo si sono che cazzo vedi sao eh vedi sao cosa vuol dire allora questo si va c'è questa che indovina o yoga o wine glass o cake yoga 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 guarda sao saluta Antonio beh si mette quella roba giù allora posso io aspetta la prossima ma si è bancato il gioco assassin come si chiama eh ma fallo io ma fallo io cuore cuore si chiama guarda ha inventato snakeboard pennello l'italiano no le indovina così ma qua c'è scritto cosa fare in italiano perché sennò dai pennello tocca a me no cavolo come si chiama snakeboard 32 partite ah capite cos'è partite hai è m sono mi ecco dove hai dato il cavolo che tu ho che ho che ho 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 I see line, or leg, or nail, oh I know Sì, giusto, dai Uno per uno, finché non si indovina Ma scusa, moto Eh, c'è domani mattina, moto I see computer mouse, or eyeglasses, or sunglasses I see cherry, bicycle, or tractor, oh I know Oh, l'ho fatto, hai indovinato Non ti va No, perché sono già videocamera Tanto io questo video l'ho Partite Vediamo come avevamo fatto una partita Nessuno l'ho designato Dai, vai avanti, giocavi Ma non c'è il cavolo? Eh, potrò l'ho cancellato il cavolo, il cazzo Che me ne frega Ma tu che sce, che cosa sarà? I baffi Ma che cosa, c'era scritto mutagno Eh, vada tutti i gentaglia, gentaglia Eh, vi chiamo così perché gentiale Le derivano gentelle come animale, animale, animale Come cacciotti E oggi siamo qua con lui che sta facendo un video YouTube Ciao E questo qua che si ammazza dalle risate Lampadino Io so come farla, ma te non mi presti il telefono Sono troppo swag con questo cappello Vuoi che te la faccio io? Scrivete nei commenti Se stai zitto Riccardo Hashtag Riccardo Hashtag Riccardo non sa dire Hashtag Hashtag Perché lui dice Hashtag 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 Dici hashtag Lo dici solo adesso che lo sai Scrivete hashtag Riccardo Non sa dire hashtag Ma è il ginocchio Il giochino Ah no Ma è facilissimo I see zigzag Or lightning Or elbow Or nose I see Dai Cos'è? Siamo una cosa che non voglio dire Tua mamma è troia E al 7% ragazzi Questo video si terminerà qua Bottoclip Dai Oh Portate una bottiglia Facciamo il bottle flip Bottoclip Cos'è? La persona Ecco il pennino qua Così La persona Aspetta Che tira la bottiglia Aspetta Irene Se stai guardando questo video C'è il tuo amore Ma chi? Basta Botti Papillon Papillon C'è il chino C'è questa troia Bottiglia di vino Bottiglia di vino Sì perché scrivi vino in grande Giusto Me l'hai indovinato Allora questo video Finirà qua Alla prossima Bella Noi 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 Grazie a tutti